mario del giglio tutto è dall'illusione alla realtà spirituale attraverso mario del giglio domanda le esperienze di pre morte hanno lo scopo di diffondere la fede nella sopravvivenza osservano solo alla singola persona che le vive risposta la testimonianza che la persona dà riguarda innanzitutto se stessa ma contemporaneamente viene offerta ad altri fratelli e quindi serve a chi la percepisce e l'accetta ricorda fratello nessuna esperienza è insignificante tutto è realtà ed ha un preciso scopo arrivare al sé spirituale anche le esperienze come questi incontri non sono frutto di fantasia ma testimonianze reali che servono a tutti sebbene accettate da pochi in definitiva sono esperienze che riguardano pochi fratelli intendo dire che se voi andate in giro a raccontare l'esperienza che state vivendo quanti la credono eppure avviene perché chi ha orecchi intenda e chi ha occhi veda cioè non è per tutti la stessa cosa però chi vuole può comprendere pur non vivendo questa stessa questa esperienza è qui il punto